Tra le tante famiglie che questa sera si urineranno a celebrare il Natale all'insegna dell'armonia, ce ne saranno circa 6.520 che non festeggeranno affatto. Sono le famiglie dei lavoratori vicentini a rischio licenziamento, praticamente un piccolo paese che questa sera onorerà il Natale nel modo più difficile, senza certezze e senza la speranza di rinascita che in sé questa festa dovrebbe portare. Nella sola provincia berica, i licenziamenti dall'inizio dell'anno hanno avuto il funesto ritmo di 153 nuove unità ogni settimana. 153 persone espulse dal ciclo produttivo e per ora ancora alla porta. Innutrita a compagnia peraltro perché nel 2009 la disoccupazione a Vicenza è cresciuta di quasi il 2%, portando le persone in cerca di lavoro a quota 22.000. Da gennaio a novembre invece, sempre nel Vicentino, particolarmente colpito dalla crisi, sono state autorizzate 8 milioni e mezzo di ore di cassa integrazione ordinaria, altrettante di cassa integrazione straordinaria e 978 mila ore di cassa integrazione guadagni in edilizia. Particolarmente grave è l'aumento esponenziale della cassa integrazione straordinaria, spesso preludio alla mobilità. In 8 casi su 10 le richieste sono pervenute da aziende artigiane, per la maggior parte di piccola dimensione, con meno di 15 dipendenti, che sono poi le più indifese in caso di crisi. Ma, nel male, l'utilizzo massiccio di questi ammortizzatori sociali, come mai prima nella storia economica del nord-est, svelano però un tessuto economico che ancora ci crede, che vuole evitare il dramma del licenziamento a tutti i costi. Un boom da 18 milioni di ore per questo annus horribilis, che si trascinerà purtroppo con le sue ripercussioni economiche e sociali anche per i primi mesi del 2010. La nascita di nuove speranze, quindi, dovrà attendere ancora un po'. Non si scarterà questa sera sotto l'albero di Natale, ma rinascerà primavera con una nuova stagione, si spera per tutti.